Ieri sera nel primo giorno di weekend con il coprifuoco Palermo era deserta, niente auto, niente pedoni in giro, tutti chiusi in casa in attesa che l'emergenza coronavirus passi. Una città spettrale che nonostante i divieti siano ancora più stringenti ha portato la gente a comprendere la difficoltà del momento. Pochi movimenti soprattutto in centro con locali e pub rigorosamente chiusi. Numerose pattuglie dei carabinieri della polizia a presidiare le zone dal centro alla periferia. Nessun escluso dove è possibile controlli a chi passa in auto e a piedi. Al fine di evitare che qualcuno bivacchi in centro le forze dell'ordine hanno presidiato le principali piazze del centro storico. Praticamente deserta anche via la regione siciliana. Poche auto in circolazione e principalmente di automobilisti di rientro a casa. Silenzio e situazione spettrale in centro nonostante la ZTL notturna.